Siamo con Sara Serraiocco, nastro d'argento per non odiare, per la sua interpretazione, beh che effetto fa e che emozione essere qui stasera. Grazie mille e grazie al sindacato per questo bellissimo premio, sono veramente emozionata perché non me l'aspettavo, devo essere sincera ed è un film a cui ho ottenuto particolarmente tanto, ringrazio il regista Mauro Mancini che mi ha dato la possibilità di interpretare questo ruolo ricco di sfumature particolari e ai miei compagni di viaggio voglio dire un grazie, il grande Alessandro Gassman, Luca Zunic, c'era una bella energia sul set quindi sono contenta di condividerla con voi questa sera. Che cosa ti porti dietro di questo personaggio? Sicuramente mi porto dietro la sua fragilità ma allo stesso tempo una forza interiore che che lei ha e che porta avanti durante il tutto il percorso del film. Noi ringraziamo Sara per essere stata con noi, grazie Sara e complimenti. Grazie a voi, grazie.